Cominciamo a nonostare via perché è in termini tutti i gruppi che sono spegnati con una pergamina in corpo e la sostruzione di una terza edizione di un corpo. Eh sì. E' dato che il mio chiede è qui. Gli ospiti del sinico-faxologico di Via Mose-Pianchi, che fossero qui semplicemente da che si sono persi, possono comunque rimanere a godersi dello spettacolo, saranno poi accompagnati a casa dalle maschere presenti. Mi sento un pochino così, e il polo caffè che divise con HP Day. Mi sembrano abbastanza pronti, io credo che dovremmo scendere l'HP. Sono ancora 80-90 persone, ma ci siamo. Voi siete pronti? No? Ancora un minuto? Va bene? Bocca in un po' Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Per Jesus, for Oh, happy day Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.